Mi hanno chiesto qual è la differenza tra il modem ed il router. Una rete informatica è un insieme di dispositivi collegati tra di loro. Il router è un aggeggio con delle prese nelle quali puoi collegare dei cavi chiamati cavi Ethernet. Un'estremità va al router, l'altra estremità va al computer. Cellulari, tablet, smartwatch sono troppo piccoli per potervi attaccare dei cavi. Hanno bisogno di un collegamento senza fili, wireless in inglese. Il Wi-Fi è la tecnologia che consente il collegamento senza fili. Internet è una rete informatica globale che collega tra di loro i computer di tutto il mondo. Il modem è un dispositivo che consente ad un computer di collegarsi ad Internet. Poiché ormai tutti hanno in casa più di un dispositivo, per collegarsi ad Internet serve un apparecchio che sia contemporaneamente modem e router Wi-Fi. I modem di Vodafone Team sono esattamente questo, dei modem router Wi-Fi. I modem di Vodafone Team sono esattamente questo, dei modem di Vodafone Team sono esattamente questo, dei modem di Vodafone Team. Grazie a tutti!